Ciao ragazzi ragazzi, ora sono sempre io, sto caro Stefano Parma Il Parma è qua Siamo qui su Assassin's Creed Odyssey Siamo su Assassin's Creed Odyssey Se non avete capito Incominciamo la nuova serie Nuovo Dave Britch Dave Jerry Un nuovo viaggio italiano Continua Andiamo a visitare a finire quante Bene Bene ragazzi A che ti peso Titano Belt Bene Su I parchetti Andiamo Perchè fa Asparto non riniega Atrezzatura Ricompenzo Bisogto l'ora Teniamo Piaggol Olimpico Quanta roba bella Piaggol Olimpico Paggol Olimpico Alcino Capitano E' compito Poca' Alcino Di mappie completamente, si, questa è un'umbrale ma che tab? tab? antica? mappie scrimi? mappie fammi origini origini eri dici e già è molto busto Ok bene C'è pure il drachma, se non è mai le notte. Già. Ricompense. Drachma. Buon essenziale. Maschi. Assassini. Assasini. Assasini. Ibi fraip. No, ma io spio. Sta dono e mi ceneo. Perfetto, ma è già E ora, qui ti traccia Spada 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 Scriọi Spada 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 se c'è qualcuna per... voi vi mettete la musica di AC12 ti amo allora ragazzi cosa mi volete fare? mi hanno regalato la canzone AC2 mi hanno poi davvi un bacio a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Andiamo a incontrare il destino. Questa è sparta, ragazzi. Come i 300 spartani, come in film. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento. I persiani sono qui, per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue. Che cosa ne dite, spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Questa è sparta, ragazzi! 300 spartani che gli rompono il culo! Eh, sono il più di loro, ma vero i spartani? Hanno due palle così, vi affronta i testi di cazzo! E ecco, uno spartano! 300! Gli suoi, quanta piglia di loro? A combattere a minute, a romperli pure! È nato guerriero! Lui che combatteva il guerriero! Fin da bambino a tre anni, combatte! Quindi, zucca, ragazzi! Questa è vita, educazione alle spartane, ha ricevuto! Manca una lacrima, ragazzi! Manca una lacrima! Manca una lacrima! Allora, l'umisità HD era non esponibile! In passazione HD era non esponibile, ok! Oh, no! No! Facile! Il livello è, commettere una difficoltà facile, ragazzi! Per io, per... Paracimile, la salute! Sì, ok! Sì, ok! Mira parziale! Sì! Di assistenza che riceve nel corso, ti permette di scoprire il mondo da solo, in quel assistente, di accompagnare a passo a passo. Sì, 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 sì! Audio è al 100%, frequenza musica è normale, benissimo! Lingua italiana, magnifico! Lingua italiana, magnifico! Lingua e menu italiana, italiana, sì, sì, sì! Sotto titoli, rispondete, credo? Sì, io lo voglio! Sì, sì! Sono sicuro! Sì, il caso di vivete con le porte. Comandi in base, normale, si vive... ...vibrazione! Tango pesante, magnifico! Benissimo, è buono. 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 Benissimo. Benissimo, è buono. Facciamo un passo alla volta. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso posso sempre regolare le impostazioni al momento. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Molita assistita. Molita assistita è un'esperienza di gioco più tradizionale e indicata l'idea. Sempre presenti lo schermo obiettivo e la missione segnalata. Molta assistita ragazzi. Dammi tutte le informazioni che puoi. Non voglio trovarmi lì senza le indicazioni necessarie. Felice d'aiutare? Vuoi sempre cambiare idea più tardi? Senti Rayla prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dèi. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma... Fidati di me. Forse hai ragione. La lancia e il libro non significano nulla. Ma qualcosa mi dice che non è così e di certo non lascerò che l'Avstergo non scopra prima di lui. Ma hai ragione. Comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Alexius. Io ricergo e ricergo. Trovo i due risultati. Ok. Scelgo Alexius. Maschius. C'è l'arte ragazzi. Cominciamo Maschius. Ho giocato la esperienza io. Previsto mio. Scelgo Alexius. Prima lo spero il gioco, le tattiche, i combattimenti, le abilità. Tutto diciamo le meccaniche. Poi passerò con un altro al prima PS4. La missione è metterlo a metà canonica. Questa non canonica. Lui ci condurrà sulla strada giusta. D'accordo capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti al resto. Arriviamo. L'inizio della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Amstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Ha gli ordini di capo. Fai... Molti... Hai molti... Non male. Ah, non è sicuro. Sì, mamma mia, c'è la nostra amica. E qua è sempre con noi. Che è bella. L'almario è bella. L'almario è veramente che. Siamo là. È bellissima. Ehi, faccia di merda! Vieni giù! Il ciclope è un messaggio per te. Via il tuo capo, che puoi infilarselo. Per la testa scorsa! Malacca! Il ciclope diceva che hai fegato. Facci vedere! Avvicinati tu. E sconto. Dovresti saperlo. Il ciclope riscuote sempre i suoi debiti. Devi imparare la lezione. Se il ciclope vuole darmi una lezione, ditegli di venire a darmela di persona. Non si scherza con il ciclope! Fatti fuori. Fatti fuori. va va che era da solo su un trattorino la settimana scorsa questa merda succede ogni settimana non può continuare così ah grazie dell'advertimento che ti è successo? niente, fa bene ora è tutto a posto di nuovo il ciclope non ha ancora imparato la lezione a quanto pare no prego accomodati pure credi che Zeus mi donerà un'aquila come ha fatto con te Alexios? forse potresti chiederglielo da parte mia ehi caro che bellissimo ancora questa storia? lo chiederò a Zeus per te troverò a mettere una buona parola per te finalmente allora che ci fai qui? ah quasi dimenticavo Marco ti sta cercando cosa vuole ora quell'idiota? non lo so vuole che lo raggiungi alla sua nuova casa nel vigneto che hai detto vigneto malacca è sulla strada per Sammy dice che il vino lo renderà ricco da quando possiede un vigneto? da ieri credo quindi Marco che mi deve dei soldi ha comprato un vigneto come ha fatto? non lo so e dove si trova la nuova meravigliosa tenuta di Marco? sai la statua di Zeus sul monte Enos? appena più a sud beh suppongo che farò visita a Marco grazie Febet ottima spia dracma avverto Marco del tuo arrivo capito? bello allora ragazzi la prima scelta vuole essere gentile la prima scelta è una piccola bambino eh vuole essere gentile buon nome piccolo vai a chiamare Seno la sua apita eh Alex l'ha chiamato Icaro come il famoso ragazzo che si è messo alle ali di cera lavorato troppo vicino al sole si è squattato bruciato eh è bruciato eh eh se è sciolto le sali è bruciato ok le scelte scelte che avranno impatto più o meno visibile valuta attentamente la tua posizione perché poi alcuni scelte infurano sulla tram oh oh la tram oh eh ma ecco si è impoverato prevele tram e sono permanenti taglie uccidere equilibrio amore e uscita fuori di qui ora basta dite a quell'idiota di un orvo che se vi rivedo gli cavo l'occhio buono e lo do impastare la mia apita appena sono pronto lo do impastare la mia apita ragazzi è proprio come i gangster praticamente è una strategia di guerra psicologica mandare un messaggio mandare un piccolo messaggio mandare un messaggio mandare un messaggio ottima questa divertirsi bene sto Grazie a tutti Grazie a tutti Inventario Spada del bandito Comune Spada speciale Sangue e tradimento Arcano Spada del bandito Spada del bandito Spada del bandito Allora Questo Atacco pesante X per amplicarsi Esiste health Spada del bandito Spada del bandito Opzioni Inmenu Opzioni Comandi Comandi, allora, ok, attacco R2, attacco presente, mir, frecce, lancio l'oggetto, frecce, mir, frecce, attacco, tiro incendiario, interazione principale, assassina, basti, eccetera, scendi, costa acrobatica, c'è la sposta, spero lamento, schiva, naviga veloce. Quale, aggancia il bersaglio, da Fodanimo, interazione secondaria, naviga, cambia, arma corpo a corpo, esegui torce, canta, marina esco, ok, fischia, chiama cavalcatura, ok, arma all'istinto, rompe. Controllo dell'acqua, regolazione, ruota, mappa che mira, ruota abita dalla distanza, mira, liberi arcieri. Ecco, parata, va bene, comandi base. Alternate, alternate. Anima, mappa, comeandi base. Base, asipio, asipio, base va. Base, asipio, base va. Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Addio l'occhio dell'acqua. Addio l'occhio dell'acqua come in Origins. Un dono di Marco al piccolo Lexius. Chissà come sarebbe affrontare gli scagnozzi del ciclope con questa. Dove si va a pisciare. Dove che cagare a pisciare. Dove sorgeva un tempio, una volta un tempio. Lì si è piazzato bene. Dove si è piazzato bene. Fede ha dormito di nuovo qui, poverina. Non ha un posto da chiamare casa. Ecco la piccolina e il piccolo Alexius è molto bravo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah 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 scusate ragazzi sento il rumore scusate ragazzi 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.